Il patriciato qui sta allargando e sistemando il sentiero esistente che saliva verso la Greina. Nei tratti più difficili viene perforata la roccia e caricata con esplosivo e sparata e sgomberata mediante l'escavatore. Il patriciato di Aquila Torre Lotinia è proprietario di tutta la zona della Greina. Siamo proprietari dell'Alpe di Moterash e di tutta la zona Pascolio in alto fino alla diga Luzzone. È il nostro quasi dovere e impegno a mettere a posto il sentiero finché la transumanza venga in sicurezza e anche per dare una continuità all'Alpe. . . . . Possiede il 70% del territorio cantonale, vanta mille anni di storia e nasce per proteggere i beni primari e inalienabili delle antiche comunità delle Alpi, i boschi, i pascoli, le vie della transumanza. Ci sono 202 patriziati in Ticino e 90.000 persone possono freggiarsi del titolo di patrizio. Un'istituzione antica, profondamente radicata nel territorio, vuole oggi tenersi al passo con i tempi ed affrontare le nuove sfide del multiculturalismo e della vita moderna. Si calcola che negli ultimi vent'anni le iniziative del patriziato abbiano prodotto 200 milioni di franchi di indotto in una gamma di attività imprenditoriali anche molto diverse da quelle tradizionali. Riconosciuto come corporazione di diritto pubblico autonoma rispetto al comune, il patriziato opera nell'ambito della legge organica approvata nel 1994. A distanza di cinque anni dall'ultima revisione, si sta definendo proprio in queste settimane la nuova legge che intende rilanciare il ruolo morale ed economico del patriziato ticinese. Il comune è necessario, il patriziato è a supporto del comune. Quindi questo occorre dirlo a chiare lettere, nel senso che i patriziati, soprattutto dove abbiamo avuto e dove abbiamo in corso delle aggregazioni, assumono un ruolo importante proprio perché sono di aiuto agli enti comunali. Attualmente abbiamo un'ulteriore sfida per questi 202 patriziati ticinesi che è la revisione della legge organica patriziale. La legge organica patriziale è centrale perché quando è stata introdotta questa nuova legge si è introdotto il fondo di aiuto patriziale e poi in seguito anche il fondo di aiuto per la gestione territoriale. Quindi anche patriziati che non hanno dei grandi fondi, perché non abbiamo tanti patriziati ricchi, alcuni sì, in Ticino ci sono dei patriziati che stanno molto bene, altri però hanno delle idee ma purtroppo non hanno disponibilità finanziaria. e quindi possono attingere a questi fondi di aiuto per operare costruttivamente sul territorio. Quindi il futuro dei patriziati è garantito. Nato dove una volta c'era il mare, il marmo di Arzo è famoso per le sue sfumature di giallo e di rosso. Di proprietà patriziale, fino a qualche decennio fa, le cave fornivano lavoro a numerose famiglie del paese. Troppo marginali per reggere alla crisi, vennero chiuse nel 2009 e sembravano ormai abbandonate per sempre. Fino all'anno scorso, quando il patriziato ha avviato un impegnativo progetto di rilancio per farle rivivere, puntando anche sulla valenza didattica e culturale del luogo. Il marmo di Arzo ormai ha una storia centenaria. A partire dal 1500, negli archivi del patriziato, abbiamo delle evidenze dove hanno iniziato a utilizzarlo. È stato utilizzato in canton ticino, in tutte le chiese. Un pezzetto di marmo lo si ritrova di Arzo. Nelle chiese, nei palazzi, a livello di Lombardia e Piemonte, ed è riconosciuto come un marmo con delle caratteristiche veramente particolari. Abbiamo la macchia vecchia, in primis quella rossa, quella grigia e quella gialla. Abbiamo il broccatello, abbiamo il rosso di Arzo e poi il venato. Sono quindi sei tonalità in un compressorio di 4 chilometri quadrati. Ecco, qui abbiamo un blocco di marmo, macchia vecchia. La caratteristica di questo marmo è che, dopo lucidatura, evidenzia le tonalità e la brillantezza. Chiaramente questo è una breccia calcare asciuga in un attimo. Adesso, se io la bagno un attimino, c'è un po' la magia. C'è la possibilità di vedere tutte le tonalità di questo blocco di macchia vecchia. Qui c'è del rosso, c'è del grigio, c'è del giallo. Praticamente è un po' un blocco che rappresenta le tre qualità di macchia vecchia. Come ho detto prima, il rosso, il grigio, il rosso, il grigio e anche il giallo. Aldo Allio ha messo la propria esperienza a disposizione del risveglio delle cave di Arzo. Agli studenti in visita può ricordare un'esperienza personale diretta di quando accompagnava suo padre a lavorare su questa stessa montagna. Lì dentro era posizionato il motore diesel. Era un motore costruito in Germania dalla ditta Hatz, che lo vedrete poi nel laboratorio. Per cui il motore diesel veniva acceso e faceva girare il filo elicoidale. Il filo elicoidale è questo. Vedete? È un filo unico composto da tre fili intrecciati. Ecco, qui siamo di fronte al laboratorio dove si lavorava il marmo. Questo spazio appunto è stato ristrutturato per avere una funzione anche didattica, oltre che museale. Siamo qui nello spazio principale dove ci sono una serie di macchine originali che servivano a lavorare il marmo. Ci sono ad esempio questo motore diesel e il carro, questo carro particolare con due ruote, le due ruote di dietro più piccole, che si chiama carro matto, che serviva a trasportare i blocchi di marmo, frazione animale, dalla montagna fino in pianura e tenere il blocco orizzontale e non farlo spingere. Con la collaborazione dell'architetto Sassi abbiamo pianificato tre progetti, che sono il museo, l'anfiteatro naturalistico e il percorso didattico, con i relativi costi finanziari, che per i tre progetti la spesa era stata quantificata in 1.340.000. E grazie alla ripresa dell'attività il marmo di Arzo continua a farsi conoscere nel mondo. Gli archivi patriziali vantano i documenti più antichi della storia ticinese. Alcuni sono addirittura su pergamena e risalgono al 1200. Abbiamo visitato l'archivio storico di Castagnola, dove sono conservati i documenti preziosi. Vi si legge la storia del territorio, ma soprattutto si riscopre la vita quotidiana delle comunità a partire dal tardo medioevo, uno spaccato sulle cronache mai raccontate degli ultimi secoli. L'archivio della città di Lugano conserva in deposito il fondo del patriziato di Lugano, che è il materiale prodotto dalla città, dalla comunità di Lugano, nel periodo precedente alla nascita del nuovo comune, quindi precedente al 1803. Nel fondo sono conservate 150 pergamene. Tra le cose più interessanti sicuramente c'è la prima pergamena, che è un atto notarile del 1221, è una concessione in dote di alcune terre a Caslano, alla Magliasina Pura. Poi ci sono documenti interessanti anche sui contrasti tra Lugano e Bissone sui diritti di pesca. Anche queste sono situazioni che hanno occupato proprio il governo della città per diverso tempo. C'è anche un registro della fine del Cinquecento con tutte le spese di sanità per contrastare la peste. Oggi l'archivio è stato invertariato documento per documento. Ovviamente nei singoli registri, anche studiando i singoli documenti, si riesce ancora a tirar fuori molto, si potrebbe tirar fuori molto da questa documentazione e quindi resta ancora una miniera da sfruttare. I patriziati hanno assunto anche un ruolo più marcato negli ultimi anni. C'è un grande movimento per questi enti patriziali. Se pensiamo ad esempio al ruolo attuale del patriziato di Ascona, sta rivalorizzando tutta la zona del delta della Maggia, con il golf, con il porto patriziale, con tante altre iniziative che possono essere fruite da tutta la comunità. Oltretutto, se penso alle centrali in Cippato, che sono attualmente state realizzate negli ultimi anni in Canton Ticino, penso a quella di Losone, grazie a una collaborazione tra il comune, le aziende elettriche e il patriziato che fornisce la materia prima tolta da dove? Dai nostri boschi, dove la legna è lì, è lì, l'abbiamo a due passi, quindi a chilometro zero. Questo lavoro viene fatto dai patriziati in collaborazione con le aziende forestali, il cantone con i suoi dipartimenti. E noi come Alleanza Patriziale cerchiamo di coordinare un po' tutti questi movimenti, queste idee, questa promozione di iniziative per la cura del nostro territorio. È chiaro che la legna è una risorsa antichissima, forse la prima fonte energetica dell'uomo, e anche noi a Losone abbiamo sempre stato un nostro sostentamento che è dei nostri antenati. Chiaro che qui la modernità, se volete, è che abbiamo fatto come un grande cammino per tutta la comunità, poi viene distribuito il calore tramite il teleriscaldamento, che questa è la tecnologia di oggi, se volete. Chiaro che però, in sé proprio semplificando, bruciamo del legname, cioè quindi del legno come si è sempre fatto. Quindi, se volete, è un po' l'antico, ma legato al moderno, quindi. È una centrale anche molto grande, è costata più o meno sui 12 milioni. Per noi il patriziato è stato un impegno importante, chiaramente 3 milioni di investimento, che però hanno indotto, e quindi è una ricaduta economica sul locale. Inaugurata nel 2016, la centrale di teleriscaldamento di Losone è la più grande del Ticino, coronamento di un progetto avviato dieci anni fa dal patriziato, proprietario del terreno e dei boschi circostanti. Eccoci, siamo in centrale. Queste dietro di me sono le caldaie, caldaia da 2400 kilowatt, caldaia da 1200 kilowatt. La centrale consuma sulle 24 ore 50 metri cubi di cippato. Questo è il cippato dei boschi di Losone. Qui siamo nella parte che porta con dei pistoni e dei rastrelli il cippato verso le caldaie. Qua abbiamo lo schema degli utenti allacciati, questa è la centrale, qui abbiamo il centro di Losone, le tre frazioni, scuola elementare, scuola media, motel, AGE, con Mercato Cattori, il nuovo Aldi, questi sono un po' gli utenti più grossi con consumi forti, più distribuiti sul territorio nelle frazioni, gli utenti piccoli, quindi case o piccoli palazzi. Nella legge organica patriziale si dice chiaramente che i beni patriziali sono inalienabili. L'amministrazione patriziale utilizza queste entrate per intervenire sul territorio per altre iniziative che vanno a favore di tutta la comunità, ma il patrizio in sé non ha nessun vantaggio economico dell'usufrutto di terreni, di boschi, di campi. Il fatto di essere patrizio è più una ragione legata al cuore, legata alla tradizione, è più un orgoglio personale nel promuovere, nel portare avanti il discorso che ci è stato tramandato nel corso degli anni. Queste alpe erano già crescate nel 1350, 1400 e in avanti. Questa zona di Garzotto mi ricorda la mia gioventù che ho passato qua come pastorello. Sono sempre arrivato durante il periodo estivo a condurre le mucche di mio padre. Quando non c'era ancora la diga, l'uzzone, si pascolavano le mucche in basso, poi si portavano qui a mungere alla sera. Il lago non c'era ancora, il bestiame pascolava nel fondo della valle. E all'inizio degli anni 60 hanno iniziato a costruire la diga e si pascolava ancora all'interno man mano che si alzava il lago, perché l'avanzamento della diga si riempiva automaticamente. E ho seguito questi lavori proprio con passione. e mi sono anche affezionato a un certo genere di lavoro che poi ho abbracciato nella mia professione futura. Alessio Rigozzi, vocazione capocantiere, è l'animatore del progetto del nuovo sentiero per la Greina promosso dal patriziato. Un intervento da un milione di franchi, due anni di lavoro, che lega passato, presente e futuro dell'alpeggio più importante nella valle di Blenio. Questo sentiero lo conosco molto bene perché già da 58 anni fa lo percorrevo con mio papà in mezzo alle muche durante la transumanza. Poi si portava il formaggio ancora in spalla, da rifugio fino all'Uzzone, perché non c'era né la strada né la teleferica, e c'era la cadola con su sei forme di formaggio e così era la vita quel tempo. Queste cose mi sono rimaste nella pelle, ancora oggi sono appassionato di queste Alpi. Ecco, questo è un tratto di sentiero molto deteriorato. In questa zona praticamente ogni tanto un qualche capo di bestiame precipita. Necessita degli interventi sia per il bestiame ma anche per i turisti perché effettivamente qua si potrebbe anche avere un infortunio. Noi come patriciato siamo interessati sicuramente perché abbiamo investito circa tra teleferica, sentiere e strade, siamo sui 2 milioni e quindi è indispensabile che questo Alpe abbia un futuro. Adesso praticamente in questi ultimi anni sono aumentati anche i capi di bestiame lattifero e quindi 50-60 quintali di formaggio scendono giù. Se noi miglioriamo il sentiero con la porta della teleferica, il servizio è garantito, quindi secondo me avrà un futuro perché è uno dei migliori Alpi del cantone Ticino. Su questo non ci piove. Nei documenti dei patriziati si conserva la memoria storica degli luoghi, le origini di un'identità dove c'è ancora molto da scoprire. Lo storico Fausto Fornera ha esplorato l'archivio di Losone, ha ricostruito la genealogia della propria famiglia e ha pubblicato un libro sui rapporti tra patriziato e comune. La tua mamma con i soccor, la mia mamma con i pedi e la nonna Hilde. Il termine patriziato è stato introdotto dopo la rivoluzione francese, quindi fine del 1700-inizio del 1800 con la creazione del comune politico, dei cantoni e della prima della Repubblica elvetica, poi dopo della confederazione. È un termine che potrebbe far pensare a connotazioni di tipo nobiliare, non è assolutamente il caso. I patriziati ticinese hanno un'origine non legata al ceto, al sangue, al lignaggio, quanto piuttosto hanno un'origine legata al luogo di provenienza, al luogo di origine delle famiglie. Non per niente il termine storico corretto che si utilizzava fino all'inizio dell'Ottocento era quello di vicinia, la riunione dei vicini, cioè delle persone che vivevano, lavoravano in un determinato luogo, nel nostro caso a Losone. Nel mio lavoro di ricerca sulle relazioni tra i patriziati e il comune a Losone, nell'Ottocento e nel Novecento, ho cercato di dimostrare che i rapporti sostanzialmente sono stati di collaborazione e hanno permesso uno sviluppo a reciproco vantaggio, o meglio, a vantaggio di tutta la comunità. In questo senso la possibilità o l'opportunità che ci sia o che continui ad esserci una collaborazione virtuosa tra comune e patriziato è di assoluta attualità anche oggi, perché è quello che si vuole rafforzare ulteriormente come concetto, come strategia nella revisione della legge organica patriziale, ad esempio, e più in generale nella strategia di sviluppo dei rapporti tra comune e patriziato. I rapporti tra patriziati e comuni non sono però stati sempre facili negli ultimi due secoli. La crisi dell'economia rurale, alla fine degli anni Sessanta, ha travolto anche il ruolo dell'ente patriziale e lo scenario sarebbe oggi decisamente diverso se nel 1975 fosse passata la proposta di abolirlo, trasferendo tutte le sue proprietà al comune. La legge organica patriziale nasce proprio da quella lunga e appassionata riflessione. Il dibattito è andato a fondo sulla questione e ci si è convinti proprio da parte dei politici che il patriziato andasse mantenuto. Nel corso degli anni 2000 si è proposto soprattutto un provvedimento che è stato poi tradotto in legge, quello di la costituzione di un ulteriore fondo, il Fondo per la Gestione del Territorio, che mirava e mira tuttora a mettere nelle condizioni i patriziati di poter collaborare con i comuni e che i comuni abbiano a riconoscere questo ruolo agli enti patriziali. Ecco, il problema in genere dei patriziati è che non hanno necessariamente un'imposta che incassano e quindi hanno comunque un problema finanziario. Ecco, la visione del cantone, ma lo è anche per i patriziati e per la gran parte dei patriziati, è quella di favorire anche investimenti che rendono, quindi di tipo redditizio, per svolgere la loro attività che è ancora quella principale di gestione del territorio e di manutenzione del territorio e se poi, se ciò avviene in collaborazione dei comuni, evidentemente tanto meglio è quanto si prefigge anche il cantone. L'esempio del patriziato di Ascona è tra i più riusciti nello stare al passo coi tempi e con uno stile imprenditoriale moderno. Le sue vecchie proprietà agricole, sul delta della Maggia, sono state trasformate già a partire dagli anni venti, l'epoca della Belle Epoque sulla costiera locarnese degli artisti filosofi sul Monte Verità, in un celebre ed esclusivo campo di golf, con un Lido e uno Yacht Club, ancora più recenti, che richiamano una ricca clientela internazionale. La prima volta che troviamo il termine golf nei verbali, nella documentazione del patriziato è nel 1926, il primo accordo siglato tra il patriziato di Ascona e la federazione, che era poi l'allora, era l'epoca lente turistico, risale al 1928. A quei tempi il turismo parlava prevalentemente inglese, quindi quando la delegazione della federazione interessi regionali locarnesi si è recata a Londra, gli hanno detto se volete portare i turisti inglesi ad Ascona o nel locarnese dovete costruire un campo da golf. E da lì è partita un po' tutta la storia di questo campo da golf. All'inizio praticamente c'erano quattro buche e una capanna, si parlava di piazzette, non erano le buche come le chiamiamo oggi. Si è partiti da quattro, poi sono diventate nove e poi nel 1957 sono state costruite le 18 buche. Oggi è un'azienda a tutti gli effetti che dà lavoro a una cinquantina di persone. Abbiamo più o meno 800 soci, di cui 600 soci sono attivi. È una realtà importante che vede arrivare nella nostra zona, proprio per ospiti che vengono qui apposta per giocare a golf. Sono 15 mila persone all'anno che vengono a visitarci. Il Porto è una realtà più giovane, è stato costruito nel 1997 e è anche lì una realtà anche ben consolidata del nostro patriziato. Sono due realtà che dimostrano coraggio e penso a lungimiranza da parte degli amministratori di allora, perché se pensiamo che qui dove siamo oggi, dove si trova questo campo da golf, allora comunque erano dei terreni destinati all'agricoltura, alla pastorizia e quindi avere questa visione e capire che la nostra regione aveva bisogno di una realtà come quella di un golf o piuttosto come quella di un porto per il nostro turismo, è stata una scelta comunque a quel tempo coraggiosa. In questi ultimi anni un elemento forte nelle scelte dei patriziati è anche l'impegno sociale, come a Carasso, dove l'investimento è andato ad appartamenti riservati agli anziani a prezzi concorrenziali di mercato. Questa è la residenza dei patrizi, sono due stabili di appartamenti a misura d'anziano, questa è una piazza a disposizione di tutta la popolazione di Carasso per un luogo aggregativo e di incontro per tutte le persone. Sì, sono 22 appartamenti con 40 utenti, sono tutti molto soddisfatti e abbiamo curato anche ogni dettaglio. Buongiorno, ciao Renata, ciao Dario, tutto bene? Bene, grazie. Eccola, tutto a posto, bravi, sono contenta. Ciao, ciao, ciao. A livello ticinese è la prima, unica, che un patriziale fa su quel coso a misura d'anziano. E anche a livello svizzera lo somiglia se normalmente è di gruppo privato o comunque fa di promozione dal giorno, ma come patriziale pensi che siamo i primi, che chi è anche, è un po' un compromesso, perché proprio domani anziani mi vengono, ma domani dici che chi, famiglie, che è un po' da tutti, le anche belle di sempre, per voi altri. Domani anziani li è già stanno ricovero. Eh, no, appunto, le cose che sarebbero a me. L'ospizio. Infatti, perché chi è anche di altri appartamenti con tante famiglie, tanti fio, che muovimenta, che vita, che tiene allegria anche per voi altri, pensi che è una bella roba. Ti ti dici tu, senza sapere chi c'era qui, perché te sei il primo, al buio, senza sapere. E mi sono trovato fortunatissimo. Eh, sì, sì, sì. Io sono stato il primo inquilino del palazzo. Manca niente. Manca niente. Eh, bene. Compagnia ne ho in abbondanza. Io sono amico di tutti, almeno, più o meno. Ho guadagnato 10 anni di vita. E fa questa vita anche, sì, perché sei un giovane. Eh, sì. Ma mi ha l'aria buona da carassi. Ti ritornano. Sono nato 90 anni fa in paese. Eh, eh. Via Belvedere. Eh, sì. Io mi sto divinamente, io. Non mi posso lamentare, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di me. C'era chi diceva, si nasce patrizio, non si diventa. Però, al giorno d'oggi, non è così. Chi dimostra, ad esempio, una vicinanza al patriziato, si rende attivo nei lavori patriziali, convince le persone che sono addentro alle amministrazioni patriziali, che è una persona meritevole di assumere la cittadinanza patriziale, può richiedere quella cittadinanza, posto che lui sia cittadino svizzero, cittadino ticinese e abbia domicilio per 10 anni nel comune dove ha sede il patriziato. Uno dei punti centrali di questa nuova legge organica patriziale è quella di poi riuscire a istituire una raccolta dati su quelli che sono i patrizi in canton Ticino. Attualmente si stima che ce ne siano circa 90.000 sui 340.000 abitanti del Ticino. 90.000 sono patrizi, però non vi è una banca dati precisa che indichi chi sono questi patrizi. Melano è un piccolo comune ai piedi del Monte Generoso, con 120 patrizi su 1.400 abitanti. Poteva essere un caso emblematico di crisi del patriziato dovuta all'invecchiamento e al mancato ricambio generazionale, ma la reazione è stata innovativa. Si è scelto di tenere in vita l'ente di governo tradizionale, allargando a sette nuove famiglie il titolo patriziale. Le leggi cantonali prevedono che per ogni carica all'interno di un patriziato non possano esserci familiari a ricoprirle. Del tipo io sono presidente del patriziato di Melano, mio papà non può essere segretario come magari mia sorella, non può essere cassiera. I patrizi diventano sempre meno, le famiglie invecchiano, si va in altri paesi e questo crea un po' di problemi. Le due soluzioni erano o fare una fusione con altri patriziati o se no aumentare le famiglie. Le fusioni sono belle fino a un certo punto perché si perdono un po' le radici del paese. Abbiamo pensato, visto che il patriziato aveva un'alpe che è stato distrutto da una valanga anni fa, tante persone del paese si sono messe a disposizione gratuitamente come volontariato per rimetterlo a posto. Allora io, parlando nel comitato, ho pensato di offrire questa possibilità di diventare patrizi a queste persone e alle loro famiglie. Il problema è stato un po' che cosa volevamo fare perché come cerimonia storicamente non c'era niente. Abbiamo optato per la cosa più semplice, abbiamo fatto l'assemblea, li abbiamo invitati, abbiamo chiesto, parlato un po', spiegato tutto e loro hanno accettato molto volontieri. Speriamo che questa cosa possa essere d'ispirazione anche ad altri patriziati che si trovano nelle stesse condizioni. A un'ora da Giubiasco si scoprono rovine di pietra che evocano le suggestioni della Cambogia o del Perù. È quanto resta del paese medievale di Prada, abbandonato dopo il 1630, l'anno della peste di Milano. Tra questi muri, riconquistati dalla vegetazione, stretti attorno alla chiesa di San Gerolamo, vivevano oltre 200 persone. Il restauro di Prada è il fiore all'occhiello del patriziato di Ravecchia e una delle iniziative culturali di maggior interesse promosse negli ultimi anni nel cantone, con un investimento di oltre un milione di franchi in tre anni. Ancora un anno fa il paese di Prada era soffocato dalla vegetazione, c'erano piante di castagno che crescerono perfino all'interno dei ruderi che vediamo e durante il mese tra aprile e maggio del 2017 è stato effettuato l'esbosco di tutta la zona e la maggior parte degli alberi sono stati smontati, vale a dire in piedi a pezzi con l'elicottero e il boscaiolo che tagliava pezzo per pezzo la pianta per non pregiudicare ulteriormente i muri restanti delle case di Prada. È stato elaborato un progetto di rivitalizzazione del paese di Prada, non si vuole assolutamente ricostruire, si intende portare a tetto all'inizio almeno una costruzione che abbiamo già individuato, però nel contempo mettere in sicurezza tutti i muri emergenti perché non possiamo più permetterci di perdere neanche un metro di quello che vediamo oggigiorno. Anche attorno alle rinate cave di Arzo la cultura è tornata ad appropriarsi del territorio. Il patriziato si è fatto promotore di accordi con chi ha dimostrato di credere in questa nuova missione, come quella che ruota attorno all'associazione Arzo Scultura con i suoi artisti appassionati e la sua scuola di elaborazione del marmo colorato, una pietra dalle caratteristiche uniche. È un lavoro che non tutti fanno, non tanti scultori si cimentano con questo materiale, ma noi al di là del materiale per noi la pietra di Arzo ha un significato ben più profondo. lavorare in mezzo a questa pietra è vivere quasi come un sogno nel passato pensando al suo utilizzo fin dal 1500-1400. Noi modestamente ci sentiamo un po' su quell'onda lì e lavoriamo sì con la pietra vecchia, sì con delle tecniche che si avvicinano a quelle che venivano adoperate allora, però chiaramente con soggetti che non sono più quelli degli altari, le colonnine, le balaustre, i pavimenti, però pensi con degli elementi a soggetto astratto che ben si prestano a essere sviluppati proprio grazie, grazie anche alla policromia della pietra. Il nostro gruppo di scultori è da vent'anni che svolge la propria attività e per festeggiare questo vent'anni abbiamo deciso con l'approvazione del patriziato di installare tipo un portale, tipo un dolmen all'interno dell'area delle cave come simbolo della rinascita dell'attività artistica oltre che estrattiva in questa zona. Il patriziato ha accettato di buon grado il progetto Il risveglio delle cave, la riqualifica architettonica e naturalistica è stato il primo passo, si potrebbe dire la prima pietra, ma è chiaro che questo intervento e anche questo investimento ha come conseguenza diretta un progetto che è il progetto di far rivivere le cave, da qui il nome dell'associazione Cava Viva. Alle cave si può fare teatro, si può fare della musica, insomma le idee sono tante. Il debutto di una nuova stagione di eventi è avvenuto nel maggio scorso e nel migliore dei modi con l'opera Cava alla ricerca del mare, interpretata dalla compagnia internazionale Oniricon. Cinque serate di tutto esaurito e lo spettacolo emozionante di un teatro a 360 gradi, fuso con il paesaggio, la storia e la magia del luogo.